Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Rosario Fiorello pubblica una rarissima foto insieme alla moglie. Lo scatto è davvero dolcissimo e fa il pieno di liché. Ritornato in onda con Viva Rai 2. Fiorello si è dimostrato ancora una volta uno dei migliori showman in circolazione. Amatissimo dal pubblico e sempre apprezzato dagli ospiti e dai conduttori che decidono di collaborare con lui. Il ritorno del programma Rai è stato un successone e, con la sua solita ironia e il suo talento, ha di nuovo catturato l'attenzione di tutti. In concomitanza col Festival di Sanremo 2023, è ritornato in coppia col suo amico di sempre. Amadeus. Supportandolo con Viva Rai 2. Viva Sanremo. Occasionalmente in onda per l'occasione su Rai 1. Dopo le scorse edizioni. Sono anni ormai che lo showman siciliano è sotto i riflettori del mondo dello spettacolo. Osannato e amato dai fan. Nonostante questo, sebbene sia molto esuberante sul palco, quanto alla sua vita privata si è sempre mostrato molto riservato. Nelle scorse ore, comunque, ha deciso di lasciarsi andare sui social ad una meravigliosa dedica per la moglie. Lo scatto insieme fa il pieno di l'iche. I fan davvero su di giri. Fiorello con la moglie. Lo scatto dolcissimo sui social. Tantissimi l'iche. Tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, Fiorello ha deciso di mostrare tutto l'amore per sua moglie pubblicando una dolce foto in bianco e nero che li immortala scambiarsi un appassionato bacio. Con un'espressione felice e innamorata. Lo showman è sposato con Susanna Biondo. Sorella della cantante Marjorie, dal 2003 ed insieme. Sebbene siano molto riservati, sono felicissimi. Senza aggiungere nessuna didascalia al post. Lo showman si mostra solamente felicissimo mentre bacia la sua Susanna. Con l'effetto in bianco e nero dello scatto che rende l'atmosfera ancora più romantica. Al post sono arrivati subito tantissimi l'iche. Coi commenti da parte di amici, colleghi e ovviamente fan. Belli bellissimi cuore rosso cuore rosso, scrive Paola Barale. Mentre Giovanotti, insieme al rapper Danti e la compagna Nina Zilli, lasciano dei cuori. Tra i tanti altri commenti quello di Ema Stoccolma, Tommaso Stanzani e diversi altri volti noti del mondo dello spettacolo. Anch'io vorrei essere baciata così cuore rosso. Stupendi cuore rosso, scrive invece una fan. Seguita a ruota da tantissimi altri follower. Il bacio di Fiorello verso la moglie è pieno d'amore. Proprio come quello che i fan gli dimostrano in ogni occasione. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.